Engrico Serafiri per Esperienza in giallo 2017, lei ne è stato l'ideatore, l'anima pensante, il cuore battente, qual è il percorso dell'edizione del 2017 a Fossano, lo ricordiamo? Come lei può immaginare il fascino dell'edizione numero 20 ha qualcosa di particolare, tra cui noi abbiamo lavorato per mettere in risalto tutto quello che è il percorso dell'associazione esperienze che è fatto di portare la cultura anche nel basso, nei posti più pensati, nelle cascine del Fossalese, l'abbiamo fatto nei cortili con il teatro, l'abbiamo fatto con lo sport, dove il legame libro-cascina o libro-sport forse non sono così immediati, ma erano delle sfide che noi abbiamo perseguito e ci hanno portato anche delle belle soddisfazioni, questo è stato il percorso che abbiamo fatto. Di cose da raccontare ce ne sarebbero tantissime in questi 20 anni, mi piace citarne una soltanto, premio Sherbanenko, quest'anno sono stati scelti 25 semifinalisti, fra i 25 scelti sono racconti gialli editi, libri gialli editi in quest'anno, ce ne sono 3 in modo particolare che ci stanno a cuore, quindi su 25 è già un pezzo importante, uno Nicola Verde che fu uno dei primi autori premiati dal nostro concorso che allora non aveva mai scritto un libro in vita sua e da questo ha attratto il coraggio per proseguire, un altro è Roberto Riccardi che è nella nostra giuria, colonnello dei Carabinieri, capo dell'ufficio stampa, con il suo libro che è uscito in Audi pochi giorni fa e ancora Massimo Tallone e Carillo, sui personaggi che noi abbiamo utilizzato nel corso di questi 20 anni per creare delle corsi di scrittura creativa, ci dà soddisfazione, ci piacerebbe che questi 3, fra i 25 potessero entrare fra i 5 finalisti, il lavoro che facciamo è questo, in questo modo particolare oggi stasera ci sarà la premiazione finale, scopriremo la giuria che si riunirà per l'ultima volta oggi pomeriggio e fra i 4 finalisti sceglierà il vincitore. Noi teniamo ancora nascosti i nomi degli autori perché non vogliamo in nessuna maniera influenzare la giuria, gli autori però sono stati naturalmente convocati, gli abbiamo offerto la cena e l'albergo, stasera li avremo con noi, sono tutti ben schierati ma intanto loro premio ce l'hanno già perché si troveranno pubblicato in un'antologia i loro racconti. Un'antologia dei racconti, e questo è molto importante Grigio Serafini, scusi se ti interrompo, perché un'antologia rappresenta veramente la summa e anche una sostanza di qualità nel percorso narrativo tinto di giallo. Sì, infatti quello è per tutti i premi, non importa poco arrivare primi o secondi, il fatto di essere pubblicati è un qualcosa che poi citano nel loro curriculum, e che rende interessante il percorso di un autore, insomma se scrivo è perché gli altri mi possano leggere e leggere su carta stampata è molto meglio che l'ebook o il comprarsi da solo il libro, ecco perché oggi si pubblica tantissimo così in modo autonomo, io me lo pago, vado da una casa editrice e stanco il libro, ma non dà le stesse soddisfazioni. Non dà sicuramente le stesse soddisfazioni, e poi è una giuria prestigiosa, stava dicendo Enrico Serafini, ci vuole dire quali sono i componenti della giuria di esperienze in giallo? Il Presidente Alberto Sinigaglia, che ha presentato da altissimi anni, che poi è anche il Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, Cristina Bragaglia, una professoressa universitaria di Bologna, a Margherita Ogero, che tra l'altro è uscita anche da pochi mesi, anche lei è un libro edito da Enaudi, che è bellissimo, che forse supera tutti i precedenti che lei abbia scritto in questi ultimi tempi, Bruno Gambarotta, se è inutile spendere parole perché tutti lo conoscono, e poi Antonio Roberto Riccardi e Maurizio Patrone, oltre che alcuni locali come Beppe Di Solfi, Mariano, Gianni Venardi, Antonio Miglio, che sono personaggi più conosciuti localmente, ma conosciuti dal nostro pubblico. Enrico Serafini, una domanda per portarci proprio alla prima volta di Esperienze in giallo, da che cosa è nato questo festival e questo premio? Per portarci, scusi? Per portarci indietro nel tempo, Esperienze in giallo ci fa una brevissima storia, e come è nata questa idea? Come tutte le cose che poi hanno un futuro è nata a tavola. Un gruppo di amici si incontrano, chiacchierano, fra quegli amici c'è il responsabile della casa editrice Esperienze, una casa cattolica, e il quale si lamentava che i giovani non avevano più voglia di leggere. E per sollecitarvi che cosa si può inventare? Un premio, un premio dedicato ai giovani, e che allora abbiamo deciso, così dopo un bicchiere di video e l'altro, di chiamarlo Prime Esperienze. Prime Esperienze stava a indicare la prima volta che scrivo, e il primo racconto è un inedito, sono giovane, e l'esperienza naturalmente per mutuare il nome della casa editrice che esisteva già. E così è nata quest'idea, e le prime esperienze dovevano essere una serie di, un percorso in più anni, in cui le prime esperienze una volta doveva esserci un thriller, un sogno, un incontro, fantasie di questo genere, quindi un racconto a tema. E poi fatto il thriller, noi non ci aspettavamo che la risposta fosse così universale, quindi non soltanto in ambito provinciale, tutti ci hanno detto, ma non esistono in Italia racconti di questi premi dedicati al giallo, perché non continuate col giallo? E così è stato, e poi dopo, perché abbiamo chiamato Esperienze in Giallo, non più prime esperienze, ma il concetto è stato quello. E poi forse un po' ci ha preso il piede, perché i racconti che arrivano sono tanti, sfiorano sempre i centinaio, sono di buon livello. E la soddisfazione che abbiamo, una scoperta di alcuni mesi fa, che ho fatto un libro enorme di gente che ha cominciato a scrivere con noi, e poi ha avuto successo, e ha pubblicato con autori famosi. Proprio partendo da questo concorso, quindi diciamo che come forma di scoutismo siamo stati molto efficienti. Molto efficienti, perché è un premio che dura nel tempo, quindi ha una sua valenza, una sua sostanza, esperienze in giallo, che proclamerà oggi il vincitore. E noi, come sempre succede, una volta programmato il vincitore, poi lo faremo a partecipare in una conversazione qui, nel posto delle parole. Intanto, grazie ancora Enrico Serafini, e mi scuso per tutte le difficoltà tecniche. è stata una comunicazione molto difficoltosa, ma spero di chi si capisce. Grazie ancora, e buon lavoro con me. Grazie a lei, buona giornata. Grazie a tutti.